baldi mi sono messo stanotte bello quieto alle 3 a registrare il video su holland l'ho programmato per stamane bello una notte da leone e poi un giorno da calabrone come si dice in questi casi mi sono svegliato baldi baldi mi sono svegliato con un mal di testa male alle ossa male alle articolazioni male alla schiena credetemi un rottame mi sento un rottame pronto alla rottamazione lo so dei miei problemi di salute frega meno di zero frega una mazza specialmente se ci sono i ventini già sono annebbiati dal loro dispiacere quindi andiamo avanti ci mancherebbe altro nel giorno dopo nel giorno dopo si cerca il colpevole è inutile girarci attorno ma chi ha sbagliato di chi è la colpa ma questo ma quello ma partiamo con la risposta più banale ma più ovvia più sincera non si può mai attribuire la colpa ad una sola persona si procede per gradi e quando c'è quando avviene una disfatta di questa portata io credo che quasi quasi e dico quasi nessuno può essere esente da colpe partiamo però da chi ha più rilevanza partiamo di chi dovrebbe avere più leadership partiamo da colui che è chiamato ovviamente a fare la differenza quindi prima di ogni cosa è giusto che si parli di ronaldo come si stia come si sta poi facendo è giustissimo che si parli di lui anche nonostante se se poi l'anno scorso e due anni fa era l'unico che nel percorso europeo salvavamo no perché ci aveva messo comunque il timbro invece tra andato e ritorno questa volta ragazzi male 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 ma su ronaldo io vi dico un'altra roba io credo che ci possa stare anche una una due prestazioni in cui non brilli in cui si pochi incisivo in cui davanti davanti non c'hai non c'hai il piglio non lo so non ce l'hai non ce l'hai ma quello che non è accettabile quello che non è ammissibile è che un giocatore del genere si presenti in barriera a ciondolare in barriera con la paura addosso cioè ma queste sono robe ma queste sono robe che ribadisco e lo avrò l'avrò detto già in passato che nelle nelle categorie più basse e io in qualche categoria basso ci ho giocato e mi dicevano chi va in barriera innanzitutto tenetevi per mano mai e poi mai disunitevi mai poi mai disunitevi senza paura altrimenti non ci andate proprio questo qua dopo una partita inerme si presenti in barriera con la paura si gira apre le gambe gli passa sotto il pallone prendi gol ma questo è di un imbarazzo assoluto questo è inaccettabile poi la prestazione no se vogliamo può anche capitare la possiamo fare anche passare ci possiamo anche passare sopra ma una roba del genere è imbarazzante e credo che nella punizione nella barriera nella barriera ci sia il risocondo ci sia la fotografia degli ottavi di finale di tra juventus e porto in quella barriera c'è la fotografia una squadra sfilacciata disunita scomposta disattenta c'è la fotografia in quella barriera là c'è la fotografia sfortunata se vogliamo perché poi la palla passa proprio in mezzo alle gambe di ronaldo e viene non riesce in qualche modo a respingere la scesina quindi ci può stare anche sfortunato in quella barriera là ci sta la fotografia di juventus di juventus porto a mio a mio avviso poi bisogna dirlo non bisogna assolutamente parlare solo di di ronaldo ma di tante altre cose che non hanno funzionato della della guida tecnica ma nella guida tecnica l'ultimo responsabile può essere appunto per lo stesso perché di pirlo non è che ci si poteva non è che ci ogni volta che parliamo di pirlo ragazzi non è che ci può aspettare miracoli da chi ancora deve viverle alcune dinamiche se tu alcune dinamiche devi viverle ancora è stato un grande campione quindi lui capito ma non è mai stato un allenatore ragazzi non è mai stato un allenatore e ma avete visto zidane non ci entra una mazza zidane è stato il vice di ancelotti e ma avete visto flick flick non ci sento una mazza è stato allenatore all'offenheim è stato vice nella germania squadra tosta per tanti è nazionale tosta per tanti anni è stato il vice al bayern hai fatto comunque il percorso hai fatto hai vissuto un percorso e pirlo deve viverlo quel percorso e lo sta facendo in prima persona e quindi è ovvio che assistiamo anche a delle degli errori delle banalità è ovvio è ovvio quindi la scelta semmai l'errore l'accusa ricade semmai su chi poi ce l'ha messo in quella panchina perché ritornando ancora di più al ritroso ragazzi e dobbiamo cambiare allenatore bisogna cambiare allenatore perché giustamente vogliamo proporre qualcosa di diverso vogliamo un calcio nuovo innovativo e vedi ne ho sentite in questa settimana di cotte di crude ma con quel gioco dove vai in europa dove vai tu che sei interista parli cosa parli poi vediamo quello che succede poi vediamo quello che succede questa è la è la realtà di fondo e poi si dice sempre no cambiare l'allenatore per perché con l'allenatore no puoi dare un'altra filosofia di pensiero e ti puoi permettere anche di non cambiare i giocatori per me questa è una delle cazzate più assolute più assolute che esista cioè non è mai non funziona così perché in campo l'ho detto lo ribadirò all'infinito ci vanno in campo i calciatori con le loro caratteristiche e non e non sono i calciatori che hanno caratteristiche ben definite che possono adattarsi a una filosofia di gioco io penso che sia sempre l'allenatore che o deve scegliere lì tutti i giocatori e quindi se fa una scelta completa dei giocatori può andare a prendere quelli che si adattano alla sua filosofia altrimenti l'allenatore è quello che deve adattarsi alle caratteristiche dei giocatori io l'ho sempre pensata così ed ecco perché ho sempre più creduto e pensato che 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 allegri sia maestro che allegri sia maestro proprio perché lui si adatta alle caratteristiche dei giocatori gli stessi calciatori poi manassarri abbiamo visto no la filosofia è diversa vuoi fare diverso ma se rimani con gli stessi giocatori non vai da nessuna parte oppure per salvare la faccia devi riproporre quel calcio molto simile ad allegri non era un fesso allegri non era un fesso qualcuno forse pensava questo ma non era assolutamente un fesso era un grandissimo allenatore ed è un grandissimo allenatore detto ciò andando ancora sullo specie nello specifico la partita ieri di ieri ma se noi valutiamo andata e ritorno e in questo mi ritrovo d'accordo con compirlo cioè quattro errori quattro errori clamorosi ragazzi quattro errori clamorosi perché poi si può parlare no del fatto che anche ieri morata ne sbaglia due sottoporta nel primo tempo quadrato la traversa le occasioni potevi fare un gol di più in più ok va bene ma i gol che ha subito ribadisco la juve e poi si passa sempre da là si passa sempre dalla solidità difensiva è quelli che ha subito la juve sono sono veramente brutti 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 quello di bentancur all'andata quell'erroraccio ad inizio ripresa un buco incredibile in mezzo a sei sette giocatori della juventus non capisco come fa facciano a segnare quelli del porto ieri appunto demiral che subito mette la partita su un binario tosto concedendo un rigore da ingenuo allo ingenuamente veramente ingenuità allo stato puro e poi dulcis in fondo la cavolata stavo proprio per dirla in maniera più grossolana ma veramente la cavolata finale la cappella delle cappelle quella barriera spaccata in due in tre addirittura perché erano i tre in barriera e tutte e tre disunite forse era più il meno peggio e la palla che scivola e che va dentro una punizione da 30 metri questo è indicativo ecco indicativo la cosa che mi fa più strano e concludo la cosa che mi fa più strano è che nel post partita c'è stata una una resa completa hanno mandato chiesa giustamente che si è dimostrato fuori classe anche fuori dal campo senza alibi senza scuse senza appelli si è dimostrato fuori classe ha detto tante cose che che di cui approvo ma poi morata che facevi i proclami prima della partita sparito morata no se se non ci credete chiudete la televisione uno di quelli che non ci sono mai stato proprio morata quindi sarebbe il primo sarebbe lui in qualche modo che doveva presentarsi davanti ai riflettori a chiedere scusa tranquillamente assolutamente lo stesso agnelli che da esterno sempre apprezzato per il fatto che ad un'eliminazione no lui ci mette la faccia sparito i senatori non ho sentito buffon non ho sentito chiellino non ho sentito bubonucci che sbraita dalla panchina fa niente e questo questo secondo me fa molto strano fa fa molto 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 strano onestamente va bene valdi fatemi sapere cosa ne pensate voi commentate laiccate e se vi va perché no iscrivetevi al canale un grande abbraccio tanesi